Buon 2020, il prossimo anno ricominceremo a pedalare con le nostre fissazioni, un nuovo ospedale da costruire nell'area CIS, moderno, efficiente, facilmente raggiungibile, il raddoppio della circunstituzione, il prossimo Presidente della Regione, Cancellato De Luca, proveremo a spiegare quanto sia necessario, per arrivare qua sono arrivato con ritardo, e mi perdonerete, ma diventa sempre più necessaria la circolare nord e la circolare sud, vero o felice? Ed il fascio ferroviario verso il vulcano, un collegamento stabile verso la stazione di Afragova, una cittadella dello sport che possa servire tutti i comuni, insomma, ne abbiamo di cose da fare, con buoni amministratori locali, con una Regione che sarà mica e speriamo presto, con un governo di centro-destra in cui i riformisti, i cattolici, i liberali, i socialisti, i democratici, possano puntare e non siano una comparsa marginale in una deriva seuro-sovranista. Vorremmo l'Europa, un'Europa diversa, un'Europa diversa da quella che è più verde, più autorevole e, perché no, più femminile. Auguri. Auguri buon 2020 ad ognuno di voi, alle vostre famiglie, ad ognuno di noi e consentitemi un augurio particolare alla neonata. La neonata è voce libera. Auguri di buona. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.